Fermano l'auto per un controllo mentre il passeggero sta innalando cocaina da una bottiglietta. I carabinieri della compagnia di Bassano hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi un 37enne residente in Valbrenta. Durante la perquisizione i militari gli hanno trovato addosso 11 grammi di droga e 17 di sostanza da taglio, oltre a un coltello a serramanico. Per l'uomo è scattato l'arresto, ora si trova ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e contestuale rito direttissimo.